Mi chiamo Roberto Gerardi, sono friulano, vengo dal Friuli. Ho sentito di questa clinica un po' tra la pubblicità bocca a bocca, c'ho amici sardi, in Sardegna questa clinica è quotata molto in alto e per cui vedendo anche un po' in giro in Croazia e da altre parti dell'estero perché anche per il mio tipo di lavoro era impagabile pensare di farlo in Italia, sono arrivato qua. Il percorso l'ho visto molto bene, molto affabile, molto disponibili sia i medici da una parte, maschili che femminili, sia le assistenti. Noto, ho notato subito, che sono assistenti molto giovani, per cui anche lì un attimino forse c'era quella difficoltà d'impatto che poi alla mia età ci sta. No, belle ragazze, alla fine meritava, belle ragazze, l'occhio vuole la sua parte e l'abbiamo avuta. Il sorriso è sempre stato, fin da quando si prende coscienza della propria natura, il sorriso è il biglietto da visita, il biglietto da visita di una persona. Il sorriso mostra quando una persona si è aperta, quando una persona si è chiusa. Uno può sorridere però far vedere che è abbastanza introverso, chiuso, oppure anche estroverso e aperto, tutto col sorriso e con gli occhi, nulla più.